Qui vi presentiamo le 5 migliori tutori per spalla. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Tutore per abduzione spalla 30 gradi. Questo tutore è indicato in caso di sindrome da impingimento post-operatorio, strappo del polsino rotatore, regolazione della spalla ghiacciata capsulite adesiva sotto anestesia, protesi della spalla. Costruito con l'esclusivo prodotto in spugna auraterra, dona l'immobilizzazione di spalle e braccia a 30 livelli, fermando la formazione di legami e anche la pressione nella posizione subacromia. Passando al numero 4. TLCAM. Tutore spalla per cuffia rotatoria BD15-1. Consente l'immobilizzazione della spalla e anche l'assistenza ed è attrezzato con il rapimento del cuneo A15 e le fasce di dipendenza. Comodo e anche leggero, consente un'applicazione molto semplice e un conforto ottimale. È offerto in due dimensioni di 31 e anche 41 cm per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Ropiuten. Tutore per l'ussazione Acromion Claveare Roten, destra. Include un sistema di cinghie e pali di collegamento creati per spingere la clavicola verso il basso e l'omero verso l'alto, raddrizzare quindi l'acromion e la clavicola. Il lembo clavicolare è versatile e anche fisiologico. Ha un'imbottitura extra in schiuma di polietilene, congiunti rotanti, stress continuo e pali della cravatta anteriore pre-regolato. Almostat è top of our list at number 2. Ropiuten. Soft abdutore a cuscino per abduzione spalla 15, 20. È uno strumento medico sicuro e comodo che garantisce la stabilizzazione e la sicurezza dell'arto da debilitare nella durata post-operatoria. Raspirabilità, leggerezza e anche comfort sono garantiti dalla struttura in gomma piuma, rivestita con materiale pulito, insieme alle cinghie al grado dell'omero e del braccio inferiore. Le cinghie di supporto e le velcro cambiano le possibilità e assicurano che la stabilizzazione dell'arto sia al di fuori della minaccia di attività in andate. E infine il numero 1 della nostra lista. ZAMST SHOULDER RAP LIGET SUPPORTO PER SPALLA. È creato con la tecnologia iFeed, che offre una chiusura flessibile sul braccio per personalizzare la vestibilità. Il tutore garantisce una stabilizzazione vibrante ma leggera, nonché un buon grado di supporto e compressione. Ti consente di fare tutti i movimenti tranne quelli rotazionali e aggiuntivi. Il particolare stile FliVeget garantisce agilità dei materiali per una praticità ottimale su entrambi i lati. Il prodotto VTEC è traspirante e rimuove anche prontamente il sudore. Mentre la tecnologia ROMETEC consente di fare l'intera gamma di attività sfruttando appieno le prestazioni. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.